galladium questo odora di pokemon molto buono è un bidone è il re degli scouter però blind no non blind snow warning potrei però ballarmi le vorane qua però allora la domanda è se gli diamo la sunstone o l'altra stone quale delle due vogliamo evolvere ah no ma la sunstone non funziona su questo mamma che merda frate una bomba una bomba altro che una merda una bomba un pokemon sontuoso capo un pokemon sontuoso capo a dir poco sontuoso si operante minchia ma come judge oh on close non avevo visto l'on close si operante c'è l'on close guardiamo una bomba sta scimmia oh oh zio cane sta scimmia sei incazzata frate bavaralo sir l'unico problema di sta scimmia è il color rosso che a me non piace particolarmente perché no judgment perché inutile meglio brina la coverage un'unico 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 ti sono un'unico Grazie. Morto così. Che palle il miscristo però. Ma broder a me va bene anche una 100 mega. Non me ne frega un cazzo. Chiaro che se il prezzo non cambia. Prendo la 1000 mega o la 2000 mega. Piuttosto che la 100. Se non c'è differenza di prezzi intendo. Grossa differenza. Se cambiano anche solo 5 euro. Prendo la 100 mega. Che cazzo me ne faccia di avere 2000 mega. Basta e avanzano. 20 mega per far tutto quello che serve fare. Ma per 5 euro faccio la 100 mega. Per 5 euro al mese faccio la 100 mega. O per la 1000 o la 2000. Che cazzo me ne frega frate. Di avere la 1000 mega o la 2000 mega. Non serve a un cazzo di niente. Sono pippe mentali della gente. Che non serve assolutamente a nulla. No non è possibile però. Che palle sta roba. Lui ricarica. Cos'è? Ma è charget e ricarica? O era quella che ti dava recoil e non ha preso recoil lui? Non mi ricordo. Time out. E chi scrive cazzate ora? Dai arbitro! Madonna ma non è possibile però. Non posso missare ogni 90 a cura. Così di infame. Cazzo assurdo sta roba. Eh vabbè dai Latias. Mamma mia ragazzi. Cioè assurdo vero? No. 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 Stiamo imparando tutte le mosse speciali più forti del gioco. Il pokemon ovviamente frate non c'ha. A me portano il cavo in casa. Quanto si va a spendere? 20 euro? 30 al mese? Magari dipende c'è la zona. No mi dovrei curare penso. Mi curo prima dell'ultimo trainer o no? C'è la pozza e la tiro. Forse sì vero? Ho letto letto Lukoski. Farei Telecom lo farei? Lo farei Telecom lo farei? Penso. Cioè ma qua Telecom va più o meno bene. Devo capire la connessione. Perché ho bisogno di una connessione che vada bene. La Telecom ormai c'è nel mio numero con tutti gli insulti che gli ho tirato me la fanno andare bene la connessione. Abbiamo. Sono che con solo Thunderfunk e Triple Kick, zio. Tant'in là non si va, eh. Non è così? Tant'in là non si va. Non salutate Siri un certo. Potrebbe essere il secondo accanto di Paladino anche Siri effettivamente. Il cui è quello. Come fare sister? Nice stuff. Mamma mia. Fat punch. Drill pack. Drill pack. Nice drill pack. Drill pack is insane bro. It's crazy. Merda drill pack. Merda frate che danno è. Porco Dio. Frate. Zio son veloce. Con 122 d'attacco. Resiste non si sa come. Ok, lui cura. Sto rischiando a non curare però. Zio, sono sette, sono sette livelli in più con 132 d'attacco. Curereste, io non curerei. Cioè, sincero, mi sembra assurdo che possano anche solo pensare di resistere. Fra invece rimane uno. Madre che palle. Almeno la pozza da venti va fatta. Oh, madre. Non vorrei usare il momo. Ok. What can be a gosh. Gosh. 70. Minchia forte sto Pokémon. Pretty good. Stavo guardando le stats un po' meglio. Ma come faccio a elevargli così poco, bro? Cioè, per me è incredibile sta roba. È morto. Died poco fa. Prima di sto Pokémon, praticamente. What about the long run? Madonna infame, bro. Che palle sta roba. Ah. Molto bene. Sure should be tricky. La vera ci è needed. Perché? A che livello gli dovrebbe avere il momo, bro? Qua... Quanto non ha tolto lui il due bollì di merda con la... con la roba, fra? No. Madre, frate... Che typing è due boll, pure? Con le ottero roccia? Con le ottero roccia? Dobbiamo far vedere il pack, quindi. World Boss senza cure, capo? 400% di cure. Fai tu. No, ma non farle il World Boss, bro. Non farle il World Boss. Rare Candy. Due Full Restore. 400% di cure. Buono, eh, qui. Non è male, eh? Come faccio a rinominare il Pokémon se lo vogliessi chiamare Barney in onore del dottore? Morbido, tuono. Ha voglia? Con tranquillità, bro. Col caffettino fatto. Chillato. World Bossino matto. Brother, tranquillo. Tranquillo, tranquillo. Con la pagliuzza, si direbbe. No, non ci voglio di tornare dal Victini dopo il lab, piuttosto... Veramente? Piuttosto vado a... non lo so, vecchio. Ma quanti livelli era meno il... quanti livelli in meno era il... il tipo qua? il... il World Boss. Era 8 livelli... No, era giusto, era 8 livelli in meno. Quanto doveva essere, scusate? Era giusto. E qualcuno ha scritto quanti cazzo di livelli in meno è? Giusto, era 8. Ah, fardere il pack. C'ha tinted lens. oi, come vai, Ivanka Trump? La capa? Anche se... Oh, sì, occhio alla letta, ma... adesso dobbiamo farsi il full clear sia a pigliare la lettera qua. Pigliamo listi cazzo di punti, fratimos. Boh, come... come resista? Vero, non lo so. Bella, Jack. Showtension. My goodness, showtension. My appreciation. Dai, che palle, si deve svegliare sto ritardato, porco Dio. Che palle, bro. Sarò obbligato a usare una cazzo di cura. Ok. Ma l'ultimo trainer... 2 RR Candy, va. Super power? Cos'è che... Deboost a super power? L'attacco e due difese? O... O l'attacco e la difesa? Non mi ricordo. Merda, attacco e difesa, fuck. Non so se metterla su triple kick. Guarda, secondo me ci sta. Un triple kick è una merda di mossa, è oscena, frate. Almeno questa roba qua, shot, c'è a cura, sì, quindi... Vero, il torno è più utile, secondo me. No, no, che palle. Porco Dio, devo usare il Full Rest. Full Rest no, ma... Il Mammo lo devo fare. Allora... Full Rest non penso serva perché ha due Pokémon, quindi tecnicamente... Il Mammo lo devo tirare, fra... Super power... Nice. Non dico che possa arrivare alla Lega, però può arrivare un po' più avanti che solo qua, insomma. Quanti Pokémon c'ha sto trainer? Cazzo, uno solo, super power. Super power? Girl, you're my angels. World Boss vatto, ovviamente, con la paglia, fra... Senza neanche usare cuore. Con la sigaretta il World Boss, frate. Una domanda un po' così, infatti, eh. Facciamo che vi metto un paio di pezzati back to back per gasarvi, ragazzi. Vi faccio sto... Vi faccio sto favore. E la canta... Ma porco Dio, però... Lui cura, forse... No. Godo. Nice. Con la paglia, frate. E il DJ che è loco? Iscriviti al mondo. E il DJ che è loco? Mastro è uno dei ragazzi che sta dietro al sito se avete domande è qua in chat sempre letteralmente quindi fatene direttamente a lui se è qua in chat fatta dire a lui sicuro vi sa rispondere meglio che me ma non è possibile comunque ma veramente mi pare assurda sta roba no si sta a dare la banca qua non ho cambiato il morning rot è morto il Tojikis come fa a restare uno cioè io non capisco voglio shottare anche se c'ha due mon frate spero che il secondo sia un mezzo bidons grazie grazie ways order ride staccato presto ways oggi devo buttare delle uova mi devo ricordare bella mi zona mi zona mi zona mi zanta mi zante abbe mi devi spiegare quali sono le carte che se sculo di più posso trovare in sto set qua che sto aprendo ora perché mi devo esaltare frate dopo io vado vado in botte per ste robe sono mangiato la lamberri insomma aia merda porco dio vado c'è scarogna il crit il crit sì sì lo so però il crit lì era evitabile zio magari non usava neanche il momo vai vai manda pure ma tanto mi fa un audio abbe altrimenti questo è da fare per forza bella adesso ho letto il messaggio che mi hai scritto ma scusa perché con quella cifra non voi non pensate di comprare cioè è follia secondo me che li spendi in affitto quei soldi dopo ti volevo fare un audio ma tanto ormai è argomento che se ne parla sempre tra affitti e robe con la chat però io fossi in te considererei il comprare eh vaffanculo vabbè dai porco dio ogni volta si gira si gira una vaffanculo gli stecco tutti e tre non ne frega un cazzo ogni volta alla fine lo finisco per farlo questo eccoci non benissimo drill pack dai tanto scoppio scoppio comunque vediamo devo beccare due pokemon deboli a super power se tappare un non close e steccarlo fra cioè non è difficile due pokemon ma neanche deboli basta che crepino la super power arbitro dai che coglioni imposter qui madonna infame però dai imposter qui è illegals al punto che nulla sciotta ma non sciotta super dipende da quanti hp c'è lui devo provare devo provare sciotta godo dipende dagli hp che aveva lui la iapapa confonde certo la iapapa confondeva forse no no iapapa no io papà no allora non è altra ok uno dibole a super power forse ok 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 devo fare un close almeno uno scary face merda so bad forse devo provare a fare un altro on close altro on close si o no chat secondo me devo provare merda tanto mi ha già droppato la speed secondo me un altro è da provare forse no però non lo so vecchia il discorso è che tanto almeno con due shot sicuro solo che tanto sono più veloci di me tutti cioè presumo sia più veloci di me ora darì il pack ma maddi vado al 52 ma non so se basta la vita per non morire di ale muovi di ale ci sta seggi non shotavo questo probabilmente senza il secondo un close quindi 305 penso almeno godeg godeg grazie a tutti